Attivissimo il Pescara che è ufficializzato dall'Alessandria a calcio, l'arrivo del difensore Aristide Colagi, abruzzese che sono anche sulle tracce di Jeremy Brode al Palermo, il calciatore piace anche a Triestino e Novara. Daniele Dellicarri, DS Biancazzurro, è tornato alla carica per l'attaccante Davide Merola. Dopo l'ottima stagione al Foggia, la punta ha fatto rientro all'Empoli. Nella rivestabbia ha annunciato nelle scorse ore l'arrivo dal Modena di Tommaso Maggioni, mentre il portiere classe 2000 Daniele Saro è passato dal Clotone alla Cremonese. Il Foggia, che è una delle formazioni più attive del GnC, ha un passo da Daniel Leo, svizzero, nella passata stagione in forza alla formazione Under-23 della Juentus. Il Lecca, sorpresa, ha superato il Trento e si è assicurato alle prestazioni del centrocampista Luis Maldonado, ex Catania e Catanzaro. Il Catanzaro vuole Andrea Ghion, ventenne di proprietà del Sassuolo lo scorso anno al Perugia e che nelle settimane scorse è stato corteggiato dal Pescara. Il Monterosi-Tuscia, invece, ha acquisito a titolo temporaneo dalla Lazio il diritto delle prestazioni sportive dell'attaccante Alessandro Rossi, classe 1997. Dopo il prestito della scorsa stagione al Monopoli, la punta di proprietà dei Biancazzurri, prosegue quindi la sua avventura in Serie C con la squadra di Manichini.